Una grande prestazione la tua, MVP, come ti sei sentito oggi in campo? Ovviamente bene, sono sentito con fiducia, mi sono lasciato un po' i colpi, ho provato le cose, ha funzionato oggi, ero in riuscita e sono contento che ho potuto aiutare la squadra per una partita che era difficile per noi dopo due partite perse e avevamo bisogno di trovare un po' di sicurezza e soprattutto di vincere.